La fiscale è addirittura d'arrivo alla Commissione Finanze del Senato. Il Comitato Ristretto ha concluso ieri la discussione sul provvedimento. Da martedì prossimo si inizia a votare. Nel testo c'è anche l'attesa riforma del Catasto. Renato De Manuele. Nel provvedimento, oltre alla riforma del Catasto, attesa da più legislature per adeguare i valori a quelli effettivi del mercato, sono contenute anche novità sul processo tributario e norme più stringenti per contrastare l'elusione fiscale e l'abuso di diritto. Il Comitato Ristretto è incaricato di scremare i circa 200 emendamenti inizialmente proposti e ha concluso i suoi lavori. La mediazione raggiunta non soddisfa le opposizioni. Per il Movimento 5 Stelle si poteva fare molto di più. Un'altra di quelle occasioni perdute, perché attraverso la delega fiscale si tentava di ridare slangio all'economia attraverso il settore fondamentale che è quello appunto della leva fiscale. La Commissione non stravolgerà il testo già votato dalla Camera, assicura il Presidente Marino. Nessuna novità nel capitolo sui giochi, che riordina l'intera disciplina del prelievo erariale sulle scommesse. La strada per l'approvazione della delega fiscale, insomma, è in discesa.